Ciao a tutti amici, ciao a tutti ai ragazzi e alle ragazze che mi stanno guardando. Oggi vi volevo portare una nuova serie, ovvero la serie di Clash of Clans. Innanzitutto mi scuso se in Clash Royale non ho potuto iniziare fin dal primo momento, da quando eravamo in arena e nel campo di prova. Nel campo di prova invece ho incominciato subito quando ero già in arena 6. Quindi per scusarmi vi volevo portare insieme a voi per fare tutto il viaggio insieme di Clash of Clans e lo porterò una volta alla settimana Clash of Clans, invece Clash Royale non lo so. Io Clash Royale, buongiorno, io Clash of Clans ce l'avevo già da due anni che ce l'ho, ma non sul tablet perché mi è arrivato questo Natale. e vabbè avevo già il municipio a livello 8 e avevo già un villaggio più o meno bello e adesso vorrei iniziare tutto da capo con voi. Intanto so già come si gioca. Ok, mi stanno facendo vedere già tutto. Vabbè, ragazzi, riprendiamo un attimo quando ho sistemato il villaggio. Ok, vi lascio questa parte dove attacco con stiro. Vabbè, ho già vinto. Insomma, sono facilissime queste prove. Grazie mille. Ok, sistemiamo un attimo il villaggio. Ah, che vuoi tu? Wow, bella partenza. Adesso dobbiamo preparare il villaggio per le battaglie. Lo so che dobbiamo preparare il villaggio. Solamente che una cosa. Ok, ragazzi, siamo ritornati. Mi sta chiedendo il nome e io cosa posso mettere. Starlux. Fatto. E portiamo avanti anche questo municipio. Ok, perfetto, perfetto. Sì, io dovrei andare... Sì, ok, perfetto. Dopo mi metti sei... Ok, grazie mille. Ok, siamo a livello 1. Mamma mia. Voglio migliorare un attimo questo villaggio. Grazie mille. È giocatore. Il sante qui si sta. Allora. Ok, grazie mille. Sì, io andam. Ho.